E ragazzi come va? Io sono FeriNiki E io sono Stef che stai giochendo a Minecraft E oggi siamo su Minecraft in compagnia di Lion E Anna in questa mappa molto molto particolare Perché come vedete ci sono delle barriere che si stanno muovendo Esattamente Si chiama Nomad e potete immaginare perché Perché non possiamo mai stare fermi Ogni circa 3 secondi Si muove la barriera di un blocco E di conseguenza quanto possiamo restare fermi? Circa un minuto se siamo nel punto più avanti Quale sarà l'obiettivo di questa mappa in questo caso? Sarà una sfida 2 contro 2 Quindi io e Feri contro Lion e Anna A chi troverà per primi un blocco di diamante Però dovete considerare Quanto può essere difficile riuscire ad azzeccare il tempismo Per diciamo Bucare sotto terra Mentre la barriera vi sta arrivando addosso E' davvero davvero complicato E' stata una sfida super divertente Quindi speriamo che vi piacerà E nel caso consigliateci altre sfide da fare con questa mappa Perché secondo me si possono fare diverse cose interessanti Feri abbiamo un piano? No Bene No come sempre Allora Come sempre noi in Minecraft non abbiamo mai un piano Esattamente Ascolta me non possiamo perdere questa sfida No assolutamente no Quindi concentratissima Ma prima cosa da fare prendiamo legna Distruggi tutti gli alberi che trovi Spacca quello Spacca quello Io spacco questo Allora mi devi avvisare quando arriva la barriera Perché sinceramente non riesco a vedere bene Mentre faccio l'albero Sai come è Tranquilla Tranquilla L'importante è andare sempre super avanti Secondo me In modo tale che abbiamo un bel po' di tempo per prendere materiali prima di doverci muovere Ok perfetto Ok sta arrivando sta arrivando sta arrivando Ok Ok arrivo arrivo Ovviamente Feri Priorità assoluta il cibo Sì lo so Quindi questi maialozzi Fai il cibo Ok prova ad ammazzarlo Per quanto mi dispiaccia però qui dobbiamo vincere Che bello posso spammare perché siamo in 1.8 Perchè abbiamo due bistecche non è male Ok Fra un pochettino abbiamo la possibilità di ammazzare anche un pollo Guarda cosa faccio Non rubare le cose ad Anna dai non si fa Hai capito? Cosa ho fatto? Sto usando la loro crafting table Ah pensavo le vorresti rubare i materiali No dai Steph Ci saranno arrabbiatissime Tutto è lecito Feri Tutto è lecito Continua a prendere legna tu Continua a prendere legna No ma sei sleale però Ma vale 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 Più che altro non l'ho fatto in tempo perché avevo paura che se ne chiedessero Allora io mi rubo la legna per me di farlo Lo picchio Maledetti È già diventata il gioco Vabbè ma scusa è colpa tua Ce li hai fatti arrabbiare tu Però Feri Vabbè cambio albero Loro al momento non stanno pensando al cibo Ok Ok quindi al momento noi abbiamo tutto il cibo a disposizione Perché abbiamo una bistecca di pollo e due di maiale Mentre loro non hanno preso nulla Ma io ne ho arrabbiatissime Eh si vede si vede Ne faccio uno per me e uno per te Vai 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 veloce veloce Opla Stanno tramando qualcosa Stef Vero sono troppo fermi Eh sono troppo vicini Troppo fermi Stanno sicuramente tramando qualcosa Loro non si sono accorti Vieni lì nascosto Ok Qua possiamo scavare E iniziare a prendere un po' di materiali Cerca carbone perché abbiamo bisogno di luce per vedere meglio E dopodiché ferro Ok Se troviamo queste due cose siamo a cavallo Oddio non si vede niente qui sotto Siamo senza torcio Lo so Feri Non riesci a vedere almeno qualche minerale decente Nulla? No niente Io vado a controllare quanto manca per la barriera Sì 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 vai 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 Allora Io però non vedo niente Stef Dai torna su 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 Non mi metterai tutta quest'ansia Non ricorda quanto è vicino Corri 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 Ma scusa non possiamo continuare sotto terra Oppure dici che non ci conviene adesso andare troppo Credo che veniamo troppo lenti Per poter seguire la velocità E comunque sta diventando notte Quindi teoricamente dovrebbero anche iniziare a spawnare dei mostri Volevo dire spero di no ma so che ci saranno E non siamo minimamente preparati Quanta legna hai? Eh undici blocchi Vedi delle caverne? Eh purtroppo no Ho una brutta notizia da darti Quale? Guarda Stiamo per dover passare in acqua Oh no perché ci devono capitare queste cose È una roba abbastanza brutta Continuo a prendere un po' di legna Esattamente Quello che ti volevo dire di fare Non mi a farci un'ascia però eh Non va bene continuare così a prendere la mano Sì 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 Infatti abbiamo bisogno di ricreare un'altra crafting table Aspettiamo di superare l'acqua un attimo Che sarà una roba abbastanza scomoda E ci craftiamo un pochettino tutto Oh guarda grazie Lion Sei molto gentile Cosa ti ha dato? No ho fatto la crafting table E come sempre la sto sfruttando anche io Bravo Grazie Ma vedete che ti devi comportare così Mi sono girato e mi sono lasciato e è stato felice Vabbè vado in acqua Ciao Guarda Sono scesi giù vero? Sono tutto giù Stanno cercando di trovare già adesso il diamante? Sì Eh vabbè Ma scalzoni Allora Fere abbiamo un problema Come scendiamo? Questa montagna è un po' troppo ripida È molto ripida Allora seguimi 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 Sfruttiamo quest'albero Poi scendiamo da qui Scendiamo così Perfetto Ok Ma questa era l'entrata di un dungeon? C'è un creeper C'è un creeper Faro scappa Oh mamma mia Steph Oh mamma mia Perché mi fai queste cose? Allora aspetta Lo devo fronteggiare Vai Steph Puoi farcela Ok Ti aiuto Ma dimmi te Aspetta che esplode Calvati Adesso verrà un infarto a Lion e Anna Calvati Ok 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 Ce l'ho fatta una bella No niente niente Poteva farci almeno una cavernina No? Eh sarebbe Pensavo se c'era il diamante sotto Sarebbe stato bellissimo La vittoria più bella di sempre Ok ho recuperato Corri corri via 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 Sì 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 Corri corri Tutti in avanti Tutti in avanti Ma non stanno riuscendo a muoversi Stando sotto? Non lo so Cioè siamo in un posto bruttissimo Io ti dico la verità Non so bene che fare Ma stiamo capitando In un posto più brutto Io direi di andare verso il basso Vedo ogni tanto le loro scrittine Loro stanno sotto E continuano a scavare verso avanti Mi stai seguendo? Sì ma moriremo Lo so Io ne sono quasi E per il più di sotto c'è buio Noi non abbiamo le torce Hanno fatto benchmarking Ok Ok Continuiamo a scendere Continuiamo a scendere Come sta andando rispetto alla barriera? Eh non è che la vedo tanto Steph Cioè quello è il problema Cioè tipo adesso Non vedo nulla Eh 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 Come facciamo? Allora no io sono fuori Ascolta sto fuori Ok Cerco di seguirti da fuori E ti aggiorno Perché sinceramente non fa a fare così Allora stiamo andando sempre in avanti Però devi stare attento perché al lato Sei proprio strettissimo È tipo un blocco Mhm E quindi Sono morti entrambi Sono morti Sono morti entrambi Aspetta dobbiamo andare da loro Channel switched Cos'è successo? Channel switched Channel switched Channel switched Sono perso Hanno fatto una figuraccia Ferre Hanno fatto una figuraccia E soprattutto hanno perso Tutto quello che avevano Volevamo andare a prenderli in giro Nella loro stanza Sì perché noi ci possiamo muovere su TS E quindi Autoricommentare Steph Sbagliato la stessa Va Capito Dall'altra parte del TS Quindi non gli abbiamo neanche potuto Di prenderli in giro Ferre 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 Vedi ciò che vedo? Purtroppo siamo vincolati alla sinistra Però magari se scaviamo un pochettino di così Qualcosina la possiamo trovare Allora C'è da dire che bisogna imparare dagli errori Dei nostri avversari Lion e Anna sono morti Perché scavando scavando Non si sono resi conto che arrivava il muro E li ha soffocati Allora vado solo io? Sì Bisogna tenere d'occhio la situazione Perché io noto che comunque La barriera è più veloce di te Steph È più veloce Quindi non so se tu ce la fai a seguire così Ferre Ce la posso fare Il discorso è che io non vedo nulla Perché se vedessi un pochettino Secondo me qua ci sono già dei materiali importanti Spero in ogni caso che non si siano accorti gli altri Che ho trovato questa fantastica minerottina Perché abbiamo un bel vantaggio Arriva 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 Dannazione abbiamo sprecato una scienza gigantesca Perché per tipo tre blocchi Non potevamo andare dove davvero c'era la miniera Secondo me è impossibile Secondo me è impossibile stare a scuola No no Ferre Secondo me fa Secondo me fa Comunque dovremmo farci delle torce Steph Eh ma dovremmo fare Allora io ci posso provare Ok Ok Dobbiamo fare praticamente Una e fornace Mettere a bruciare della legna Creare la carbonella Creare delle torce Andare a farci una miniera Utilizzare le torce Vedere cosa stiamo minando E cercare di combinare qualcosa Questa poi c'era una crafting table No no tranquilla Me ne sono precraftate due E quindi adesso vado Alla velocità della luce Alla velocità della luce Alla velocità della luce Alla sta togliendo Dai no Non litigate Dai che lo mangi Mi ha rubato un sacco di materiali Eh vabbè Steph Deve fatto attenzione Però se non è riuscito a tenermi Ma aspetta Aspetta Mi è scomparsa Come ti è scomparsa Mi è scomparsa Trava la distrutta Ma l'ho vista Nell'inventario Che ti devo dire Guardali Guardali Che stai combinando Steph Sono andati a minare Dai vieni E sto rubando pietra Perché non hai legno A mettere a bruciare Io non so come si fa la carbone Arriva 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 Pensavo te lo ricordassi Aspetta Hai tolto tutto Eh sì Ok la sposto La sposto Andiamo più avanti No mi ricordo Cioè ho presente Come si fa il carbone Come si mette Ma la carbone Non me lo ricordo Allora 3 2 1 Ok Allora Ta Ta Ok Perché non parte Perché non fa Steph Sì che fa Scusa ma cosa state facendo Vogliamo creare la carbonella Perché così miniera Vediamo Ma non si fa così Io glielo sto dicendo Che non si fa Vabbè Ma tu hai lasciato una vena di carbone Steph Eri vicino a me L'hai mollata Ma non è perché ero di fretta Cercando di rubare Ma perché loro non sono espertissimi Eh parla a quello morto soffocato Oh senti Può succedere Quelli sono problemi tecnici Vabbè non difenderli No hai ragione Stai facendo una figuraccia dopo l'altro Allora Fere ti offriamo di Facciamo noi tre contro di lui Ma davvero Io non posso più E poi tutto convinto mi fa Sì su io come si fa la carbonella Non funziona Ti ricordavo mettendo legno e legno nella fornace No Eh sì Beh più o meno Però non è proprio legno e legno Diciamo E legno e legno Rude con il legno Eh sì Legno rude È così È così È così Guarda Ti insulta quando lo tagli Adesso lo faccio Adesso lo faccio Ta Ti prego non ti metti Ora ce la fa Ti controllo dai Così ti risparmio Ecco Vedi Vedi Ma quando fai così Come mi fai essere fiero di te Hai visto come son bravo 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 Fere 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 Ci sono zombie e creeper Stai tutto verso di me Stai tutto verso di me Ok Oh mamma Oh mamma È pieno Fere Oh mamma Hai gli armi per difenderci Oh lascia Ok vabbè Le sto combattendo l'ion Fatti i suoi C'è pure un creeper Se non lo nota magari esplode e riperde tutto Guarda l'assalto che sta ricevendo Ma no Guardalo guardalo Dai Dovremmo aiutarlo No 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 Non aiutamolo Guarda come scappa Ma certo che scappa Ce li sta portando da noi È ovvio Che deve fare Fere vieni qua Vieni qua vieni qua vieni qua Vieni qua vieni qua Veloce vieni qua Sono troppi Stai attaccata la barriera Siamo pazzi Sono troppi Aiuto Fere Cosa facciamo Non lo so Io salgo su Scappo Che ti devo dire Scappo Quanti sono ancora Tantissimi Mi stanno invadendo Oh mamma mia Aspetta Vi aiuto da su Vi aiuto da su Vi aiuto Vi aiuto È che dobbiamo fare Lasciatemi in pace Aiuto Meno male che siamo in 1.8 E posso spammare Ok 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 Tutto bene vero Sì li stiamo combattendo tutti Ok abbiamo dovuto collaborare Alla fine Oh mamma c'è un creeper Oh cavolo Scappo Tutto bene Credo di sì Ok Non sono esplosa Quindi penso che vada tutto bene Beh sì diciamo che è accettabile Penso che vada tutto bene Fere devi dirmi esattamente come sto Perché ho trovato una miniera Finalmente di quelle serie Ok Quindi mi devi dare informazioni Aspetta stavo raccogliendo del carbone Fere se non scoprono No Anna mi sa che ha scoperto Non lo so Allora io adesso non la vedo Perché devo andare molto Fere Fere Ho notato che Al momento sto riuscendo A rimanere pari passo Alla barriera Perché qua è tutto scavato Quindi non devo scavare io Ho trovato un bel po' di ferro Quindi ci sto facendo Una scorpacciata di ferro Il discorso è Sono molto in basso O un po' in basso Abbastanza in basso Stef Abbastanza in basso Ok Perché te l'ho detto Io per risalire Soprattutto ho rifatto Tutta la montagna Siamo proprio nel bel mezzo Di una montagna Allora sto rischiando Tantissimo di morire Fere Ok Fai attenzione Allora devo C'è pure dell'acqua qui Perché mi va tutto così male Devo scavare verso l'alto Sperando che non ci siano Materiali cattivi Salgo 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 Non lo so Fere Perché non vedo Non vedo nulla Non vedo nulla Non vedo nulla Non vedo nulla Allora dove è la tua scritta Dimmi che Non ce la fai vero Non lo so Non vedo più la tua scritta Non vedo più la tua scritta Ecco ti Ecco ti Aspetta 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 Bucco anch'io Bucco anch'io Esci esci Guarda dove è la patina Guarda dove è la patina Scappa 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 Vai crea tutto Crea tutto Allora Otto Abbiamo otto Possiamo fare due picconi in ferro Fere Possiamo fare due picconi in ferro Però non so Se questa donna ta fornace Farà in tempo A farci due picconi in ferro Oh mamma mia Guarda Anche loro sono sotto Adesso Potrebbero Avvita trovare loro Anche adesso Però non credo che comunque avrebbero il ferro per prenderlo Quindi sarebbe soltanto una rosicata incredibile Allora in questo momento Ne ho due Forse riesco a fare in tempo Il terzo Poi dobbiamo correre Rimettere la fornace Ok 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 dai Una cosa per volta Una cosa per volta Ok Abbiamo il terzo Li facciamo fare anche il quarto Mi sa Hanno anche loro il piccone in ferro Anche loro sono scesi Era normale che l'avrebbero trovato Sì 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 Ce l'hanno fatta Fere Lo vedi Fere di quello che vedo io Mamma mia Sì 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 Allora Loro mi sembrano Da qualche altra parte Secondo me non si sono accorti Di quello che è Per ora no Fere Per ora no Anche se poi li ho persi di vista Sono finiti Non lo so Non lo so Non lo so Comunque sei noti Non siamo abbastanza a sinistra Per prenderla Però teoricamente Sembra che vada verso destra Quindi se scavo Dovrei entrarci Oh Come pensavo Vuoi venire anche tu? No È meglio se controlliamo Secondo me Che dici? Ok Allora qua c'è del carbone Ma purtroppo ne posso prendere Soltanto uno Perché non posso proprio minare Attraverso le barriere Ok Però comunque Questa qua è un po' Non è un granchè Come entrata Però magari posso provare A minare un pochettino Di sicuro Mi sto beccando un bel po' di carbone Quindi possiamo farci quasi Le torce infinite Che è già un'ottima notizia Allora io sto salendo su Sto salendo su Per cercare anche di avere Una bella visione Però niente di troppo interessante Ti dico Vi prego Fer aiutami Fer aiuto Stef non mi morire Mi hanno circondato Mi sto lanciando dalla montagna Per te Bravissima Mi sono slanciata Attenta però che ci colpiamo vicino E ci facciamo più male Che con gli zombie Lo so Lo so Lo so Mi fatto lanciare Proprio in volo Ma sei pazzo Guarda il volo Maledetti Cioè ho finito totalmente La mia ascia Per picchiare Ok Allora 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 Questo cos'è No Scava Stef Scava Guarda 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 Carbone E non ci serve Ok Ma perché non c'è mai nulla Posso provare Allora È verso di te la barriera È di fronte a me In questo momento Quindi tu sei leggermente Più indietro Sei Al centro Mettiamola così Forse un po' più vicino Alla parte esterna Ok Beh non Mi sa che qua Non vedo nulla Eh sì Ce ne andiamo Me ne vado Me ne vado Me ne vado Me ne vado Perché dammi Perché io devo fare Ste cose Almeno fammi una spada Dai vai a farmi Hai trovato altro ferro Fammi una bella No mi sto di no Che succede Come siete messi Eh insomma Benito Siete in miniera o sopra No siamo sopra No sopra ancora Ragazzi Noi siamo a profondità diamante E abbiamo appena adesso Trovato una zona piena di lava Te l'ho detto Te l'ho detto Che loro erano sotto Ma state riuscendo A tenere il ritmo Sì Te l'ho detto Col piccone di ferro Si riesce Il problema è che adesso Qua potrebbe esserci il diamante Abbiamo trovato lo smeraldo Che non vale Ok E qui potrebbe esserci il diamante Però non lo vedo Stiamo rischiando un sacco allora Eh state rischiando sì Infatti siamo saliti Io te l'ho detto Steffi Io glielo ho detto Due secondi fa Gli ho detto Guarda Sono vicino a trovarle Ci stanno invadendo un sacco di mob Difenditi Difenditi È pieno di arcieri Oh Là sopra ci sono cose brutte Che succedono No vabbè non idea Non idea Non idea Ci sono i mob di tutta la mappa Che ci stanno andando Dosso Ferre siamo morti Ferre siamo morti Più morti che vivi Ok Sono troppi Ok Cerca di ammazzare gli arcieri Sono loro il problema Perché loro ci possono fare danno Attenta Ti prego non morire Come stai di vita Eh così così a metà Ferre Ti prego No ci muoio Ci muoio No 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 Ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo Oh mamma mia Scappa 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 Sta facendo giorno Puoi scappare Ok Ok continua a correre Ti prego giorno Se non scendete qua Le cose si mettono male Per adesso l'importante è non morire Perché altrimenti niente Piccone in ferro e moriamo Torniamo giù Arcieri Siamo riusciti a sopravvivere Ferre Ascolta Andiamo Giochiamoci tutto per tutto Scendiamo anche noi In basso No non possiamo continuare Questa lotta in eterno Andiamo E vediamo come va Adesso noi troviamo Soltanto dei mostri Che ci ammazzano Verò Anche secondo me Allora Pronta a scavare Sempre in avanti Ricordati la regola è Sempre in avanti In eterno E vediamo come va Dai Adesso vediamo Un diamante alla sinistra E piangiamo Comunque Ascolta Dimmi Fai quella che faccio io Andiamo verso il basso così Ok Stiamo seguendo il ritmo Sono attaccatissimo Alla barriera Ok segui Tu stai tutto in avanti Io piano piano ti raggiungo In profondità No No Ora ce l'hanno fatta L'hanno trovato L'hanno trovato Ho già letto L'abbiamo già letto L'avete letto È certo che l'abbiamo letto E ricordatevi Queste parole Lion Diamond Master Sì ma Diamond Master La barriera Corri Eh vabbè ormai Ormai non vale più Ormai avete vinto Paziente Non vale più nulla Maledetto È stato difficile Ma te sai Quanto è stato Pauroso Osare per scendere Eh sì Noi non abbiamo avuto Il coraggio Vediamo una possibilità Di fare Vediamo una possibilità Di trovarli anche voi E concludere in pareggio Ok Però Noi stiamo scendendo sotto Quindi stiamo scavando Scavando E speriamo bene Ho trovato qualcosa Ho trovato un'entrata No non è vero A che livello si Guarda che devi controllarti Ti do un suggerimento Da amico Devi ascendere abbastanza Eh stiamo molto in basso Adesso Siamo molto in basso Infatti però Sto per distruggermi Il piccone di ferro Eh lo devi usare Se non usi il piccone di ferro Non rimani abbastanza In pari con la zona Lo so Lo so infatti Però mi si sta per distruggere Aiuto 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 No c'è pure del carbone Che mi rallenta un sacco Non è possibile Che sfiga Carbone Però guarda che come zona State messi piuttosto bene Vedo della redstone Eh non vale Ok però Eh lo so che non vale Però potresti trovarlo Eh ma i minuti Stanno attichettando Io te l'ho detto Sì ma ormai sarebbe una tristezza Anche trovarlo così Metti un'altra Metti un'altra Metti un'altra Metti un'altra cosa Metti un'altra cosa Dai che lo Lui sta traiardando come un pazzo Eh io te lo dico Mi fa male la mano Il crampia la mano Lui non te morde Allora di fronte a voi A breve C'è un'altra pozza di lava Ok Che può farvi comodo Perché vedrete Ma c'è l'acqua Come c'è l'acqua Sì No È la morte Aiuto Sì Non dire Che io da una parte Vedo il diamante Ma no Sono fuori dalla zona Ah ecco Benissimo Che bello proprio Ma senta Fede Siamo morti È certo che siamo morti Ma ragazzi Siamo morti Siamo morti Siamo morti E se per una volta che avete visto il nostro video Potete considerare L'interno di iscrivervi però Per perdere gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao